E' la giornata internazionale della famiglia, ha ancora un senso, è una provocazione naturalmente celebrarla oggi, lo chiediamo a Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Cadena della Vita, il Vescovo che sorride sempre, questa è la nostra... Monsignor Paglia, noi tanto siamo abituati, proprio andiamo dritto al sodo della situazione, ci riempiamo la bocca della giornata, dei diritti, ma dove stiamo andando e che cosa ci dobbiamo mettere in testa di dover fare una volta e per tutte? Ma io credo che parlare di famiglia, se uno ci pensa bene, vuol dire parlare di miliardi di uomini, di donne, di nonni, di figli che tengono letteralmente in vita il mondo, senza la famiglia, il mondo non esiste. Mettiamocela in testa, proprio per partire da questo. E da che mondo è mondo? Da che mondo è mondo la famiglia? E' ovvio che sia un padre, una madre, i figli, e io aggiungo i nonni, i nipoti e anche le altre relazioni, perché nessuna realtà riesce a creare relazioni così ampie. E a mio avviso con tutti i problemi, anche così stabili, come la famiglia. Poi ci sono delle eccezioni, ci sono dei casi particolari, come in tutte le cose. Però io credo che chiunque ha a cuore la vita del mondo, e lasciatemi dire, anche della Chiesa, deve avere a cuore le famiglie, sia di quelle che stanno bene, sia di quelle che stanno male. E potrei dire, Dio non fa differenza di famiglie. Ecco, perché è importante pensarci e farne. E' un punto chiave. Forse piuttosto che in concentrarci troppo sul capire che tipo di famiglia, eccetera, cominciamo un attimo a rimboccarci di nuovo le mani. Esattamente. Monsignor Paglia, noi abbiamo trovato l'alibi delle difficoltà economiche, perché non abbiamo più famiglia, non abbiamo paura. Cosa diamo a questi figli, eccetera? Però poi scopriamo che in Africa si fanno figli in continuazione, che i nostri genitori, i nostri nonni, dalle macerie di una guerra. Mia madre e mio padre. Monsignor, io sono un po' più giovane di lei. Poco, 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 poco. Proprio di poco, per carità. Però i nostri nonni sono qui. E allora cos'è? Perché la fiducia allora era così cieca da crederci e mettere a mondo i figli e oggi no? Ma guardi, in un'inchiesta che con l'ufficio abbiamo fatto alcuni anni fa, è risultato ad esempio che l'80% dei giovani in Italia e anche in Francia desidera sposarsi ed avere il marito o la moglie per tutta la vita. Questo desiderio profondo in realtà è come bastonato appena esce. Perché si dice che è impossibile. C'è come una cultura che non vuole esortare a legarsi stabilmente. Poi si parla di società liquida, ma poi detto in termini molto, come dire, tra noi, dire società liquida vuol dire che non c'è niente di fermo, niente di solido, perché ognuno vuole pensare a se stesso. In questo senso il bisogno di famiglia è profondo e la società dovrebbe aiutare questo legarsi a vicenda gli uni gli altri nella famiglia, ma anche in tutti gli altri legami. Oggi purtroppo vigge un po' una cultura molto individualista. ciascuna pensa a se fatti gli affari tuoi, ma che ti importa, ma che ti interessa, ma quello è troppo lontano, io ho i miei problemi. E ovvio, chi non ha i suoi problemi. E tuttavia io credo che legarsi assieme per risolvere anche i problemi economici, ma non solo, sia la risposta e non il problema per evitare una risposta. Però, Monsignor Paia, mi permetta se la provoco ancora una volta. È sufficiente prendercela con le istituzioni che non vengono incontro, per carità. Adesso, pacchetto famiglia, ci sono proprio notizie di ieri, gli sgravi, per esempio, anche per cose. È un inizio per qualcuno, per altri non è niente. Ma insomma, voglio dire, se io il sogno ce l'ho, non mi importa se poi ho un sistema che non mi aiuti. Io cerco di andare a fondo. Voglio dire, la colpa è proprio di questo mondo che va in un certo modo o c'è qualcosa, e lì lo chiedo proprio al sacerdote, o c'è qualcosa che si è rotto dentro di noi? Ma io credo che si è rotto qualcosa dentro. Cioè, si è rotta la speranza per il futuro, si è rotta la forza per edificare un mondo diverso e c'è come un clima un po' rassegnato. E qui noi della generazione adulta, o delle due generazioni adulte, dobbiamo fare un serio esame di coscienza. Perché è un po' curioso che quando eri giovani si scappava di casa per sposarsi. Oggi se sposano e restano a casa. E ci vogliono restare. Quindi, io direi, dobbiamo tutti un po' rimboccarci le maniche e dire quale futuro vogliamo. Qual è il problema che spesso il presente ci occupa talmente alla mente e soprattutto dentro? Che non riusciamo a sognare più. Per ritornare ai tempi. Mia madre e mio padre si sono sposati nel 44 durante la guerra. Macerie. E così tanti altri. Però avevano il sogno di costruire un'Italia bella. Oggi questo sogno si è come afflosciato, si è come sgonfiato. E ognuno come ne formiche cerca di arrabbattare qualcosa per l'oggi. Abbiamo bisogno, tutta la società italiana, dai politici all'ultimo abitante, di ritrovare il sogno di un'Italia bella, di un'Italia che abbia voglia di vivere, di dare un bel messaggio al mondo intero. Perché prevale la paura? E prepara la paura perché appunto sogniamo poco. Siamo tutti un po' impigridi nell'egoismo. Impigridi nelle difficoltà che pure ci sono. Ma attenzione, da soli si sta sempre male. Puoi averci tutti i soldi che vuoi se sei solo e non puoi condividere nulla con gli altri. Ma che vuol dire vivere? Sei invece, come si diceva una volta, poveri ma belli. E beh, io credo che sia affrontato. Monsignor Paglia, a lei non ha mai fatto difetto la schiettezza. Come uomini e donne di una comunità, un po' di esame di coscienza ce lo dobbiamo fare anche noi come chiesa. Sì. Voglio dire, le metto insieme un po' di cose. Siamo venuti di prima, abbiamo incontrato Don Gaetano Saracino che stava ripartendo per Parigi perché oggi è giusto un mese da Notre Dame. Abbiamo un'intervista bellissima del papà di Noemi, la bimba di Napoli, si dice, miracolo dei medici e della fede perché si sono fatte le vedi di preghiera ai cancelli del Santo Bono, che dice, io sto qui, scappano i camorristi, non io. Abbiamo tante storie importanti. Abbiamo il risveglio di un ragazzo a Verona, Lorenzo, che era stato dato per spacciato. Ma questi genitori non hanno mai mai una per stessa ammissione dei medici. Un miracolo c'è stato. Voglio dire, sta vita è preside un'accademia, pulsa, eppure noi siamo così. Io credo che noi abbiamo una forza inarrestabile, che è la forza dell'amore. Quando si ama davvero non si può resistere. Vorrei dire che pure la malattia, paradossalmente, fa fatica a resistere all'amore. Perché l'amore tra noi è quella energia interiore che tiene in vita il mondo, che tiene in vita noi, che tiene in vita anche chi vive al limite. Ecco perché l'abbandono è la grande tragedia. Il lasciare soli è il grande peccato. In questo senso Gesù ci fa capire quando lui toccava. Ma Gesù un po' deve dire a uno guarisci. L'ha fatto qualche volta. Ma lui normalmente toccava. Il bisogno di toccarci, il bisogno di stringerci la mano, di abbracciarci. Quando ci abbracciamo succede l'iria di Dio dentro di noi. Si scatenano la chimica, l'affetto, il cuore, la simpatia. Ecco io vorrei che nelle nostre città, nelle nostre famiglie, cominciasse a prevalere l'abbracciarsi rispetto a litigarsi. È un po' curioso questo. A me ha fatto sempre una grande impressione un marito e una moglie molto nota in Italia, sposati per 65 anni, e mi hanno detto tutti e due noi non siamo mai andati a letto a dormire se prima non ci siamo riconciliati. Ogni sera è questa la forza che tiene unita la famiglia, la città, il paese. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità. Papa Francesco è arrivato, ma rimaniamo qui un altro poco, Monsignor Pagli. 9-19-18, Papa Francesco è già sceso per il suo giro della piazza. Nel giorno in cui celebriamo la giornata internazionale voluta dall'ONU della famiglia e noi abbiamo chiesto a Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente dell'Accademia per la Vita. Perché la famiglia è vita. Ecceltenza, è quello il discorso. Monsignor Paglia, io ritorno alle parole con cui lei è esordito. Prima di tutto la famiglia. Senza la famiglia il mondo si ferma. E non posso non pensare a quelle famiglie a cui l'elemosiniere pontificio, Monsignor Corrad, padre Don Corrad, come lo chiamano i poveri di Roma, ha riallacciato tra mille polemiche. Allora, si è espresso il Cardinal Parolin, sostituto di Stato, che ha detto prendetelo anche come una provocazione, ma noi dobbiamo provocargli questi discorsi. Noi a quella gente ci dobbiamo pensare anche noi. Monsignor Paglia cosa ha da dire? Io anzitutto dico una cosa che mi esce dal cuore. Che è amico tuo? Don Corrad è amico tuo. Don Corrad, vorrei dire, è sceso solo in un tombino per allacciare la luce. Gesù è sceso fino all'inferno per allacciare la luce dei cuori. Perché questa è la vera umanità. Non si possono lasciare cento minori una settimana senza luce dopo che lui ha chiamato la questura, il comune. Nessuno si muove, ma che farebbe una mamma? Che farebbe un papà? Altro che accendere la luce. Io avrei preso a schiaffi anche per alcun altro. Ecco perché io sono convinto, scherzando dicevo, è una botta folle d'amore. E per fortuna che ci stanno. Perché qui abbondano chi si lava le mani. Sono rari coloro che se le sporcano. Corrad stai sporcato. Monsignor Paglia, senta una cosa. Non è... Perché è inutile dirlo che anche all'interno della Chiesa ci sono stati pareri. Attenzione, c'è un concordato che regola i rapporti. Fammi chiarire subito però. No, anzitutto chi ha bloccato non è la questura e non è la magistratura. È il proprietario. Sì, il gestore. Perché il gestore è stato a guardare per mesi e per settimane senza risolvere un problema? Facendo arrivare un contenzioso di oltre 300 mila euro. Esattamente. Questi vogliono pagare e non possono perché sono occupanti. Risolviamolo questo problema. Allora a questo punto mi vorrebbe dire, meno male che l'ha fatto. Così almeno cominciamo a pensare, a risolvere i problemi e non a lasciarli incancrenire sulla pelle della gente. E quelli che dicono che però sono occupanti abusivi che vogliono anche la luce senza averla pagata finora mentre c'è gente avente diritto che aspetta il bando per una casa? Vogliamo che quei bambini lì o qualche anziano avesse avuto qualche problema grave perché non era la corrente per far scoppiare un caso davvero umano e drammatico la prima legge è quella dell'amore e Don Corral l'ha vissuta e ha detto pago quello che c'è da pagare a costa di andare persino in carcere. Questo è amore. Chi paga di persona? Troppo comodo. La legge che è importante io ho fatto anche un dibattito l'abbiamo scritto insieme al libro con Cantone legge e coscienza senza la coscienza la legge non serve perché è frigida la legge aiuta a far vivere la coscienza e la solidarietà ma che mondo sarebbe? un mondo giusto e perfetto come un orologio svizzero che poi non cammina perché non c'è l'amore abbiamo bisogno di amore a volte anche esagerato perché questo è il motore della vita. Monsignor Paglia che cos'è la famiglia e perché è sulla famiglia che paradossalmente stiamo concentrando tutti gli errori e la freddezza del nostro cuore. La famiglia io credo che sia il motore della storia bloccata la famiglia si ferma la storia lo capiva già Cicerone lo dico qui a Roma che non era cattolico perché è nato prima di Gesù però Cicerone ha dato una definizione per me insuperabile la dico in latino si può dire? e poi la traduci e poi la traduci allora Cicerone diceva famiglia est principium urbis et quasi seminarium re pubblici è l'inizio della città e la scuola della cittadinanza della Repubblica è in famiglia che si apprende a voler bene a rispettarsi anche a sopportarsi anche a correggersi anche ad essere solidali e la solidarietà se non si apprende da bambini come una lingua materna dopo è difficile come per me apprendere l'inglese se fossi nato in un paese anglofono oggi io potrei parlare inglese è questo il punto Monsignor Paglia grazie di cuore voi verrete ricevuti tra poco perché diciamo tra le creature di Monsignor Paglia c'è questo osservatorio sulla famiglia internazionale tre anni di lavoro per capire dove stiamo andando e chi siamo siamo cerchiamo di stare come dice Papa Francesco con i piedi per terra noi non siamo chiamati a dare le definizioni sulla famiglia siamo chiamati a rispondere alle speranze ai problemi alle angosce e ai desideri delle famiglie così come esse sono e se non le conosciamo come rispondiamo? Consiglio Vincenzo Paglia grazie è pronto l'autista che abbiamo messo per volare noi ci vediamo se volete dopo l'udienza di Papa Francesco intanto vogliamoci il suo abbraccio grazie grazie grazie